il Dremel ha in dotazione dado e pinza da 3,2 mm questo perché tutti i nostri accessori hanno il gambo da 3,2 mm gli unici accessori che non si riescono a montare su questa pinza sono le punte a forare con i diametri inferiori per risolvere questo problema la soluzione qual è sostituire dado e pinza con un vero e proprio mandrino autoserrante il mandrino può essere montato su tutti i modelli Dremel anche di versioni precedenti è sufficiente svitare il nostro dado sostituire sfilare la pinza e avvitare il mandrino autoserrante questo ci permette di portare qualsiasi tipologia di accessorio da 0 a 3,2 mm di diametro senza l'ausilio della chiavetta Grazie